Allora, il Vangelo di oggi è stupendo perché Gesù cerca in tutti i modi, si inventa cose per aiutarci a credere che c'è un padre, il suo padre e anche mio padre, tuo padre, che se ci rivolgiamo a lui con insistenza e con tutto il cuore, interviene, ci fa sentire, questo ve lo garantisco io, perché quando mi sono rivolto a Gesù, ma veramente dico, se ci sei, fatti sentire, perché io non posso andare appresso a una favola o raccontare qualcosa, ma chissà, se no, nel 1983, quando gliel'ho chiesto, lui si è fatto sentire, ha incominciato a farmi sentire la sua presenza dentro e accanto a me, dentro di me e accanto a me, con una forza, una gioia che io non conoscevo, io mi ho tutta questa faccia tosta di venire davanti alle telecamere, non l'avevo, non sapevo, ve ne accorgete che non so parlare molto bene in italiano, ma ho qualcosa di importante da comunicare, non è che è la forma che mi interessa, allora sentiamo questo Gesù, che lo possiamo capire tutti, tutti, escluso nessuno, che cerca di convincerci che abbiamo un padre buono. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola, se le inventavano, sulla necessità, la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Amici, stiamoci attenti, pregare sempre non vuol dire dire le preghiere, se no veniamo pigliati per esaurite, perché chi dice preghiere, formule, non è una formula, non è una preghiera che ci serve, la preghiera è la domanda continua del nostro cuore a Dio, che la possiamo fare sempre mangiando, giocando, divertendoci, lavorando, soffrendo e anche morendo. Si può pregare sempre Dio, non con le preghiere, la preghiera è un conto, la preghiera è un altro, la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. e racconta sto fatto simpaticissimo. In una città viveva un giudice che non temeva Dio e non aveva riguardo di alcuno, proprio una persona cinica, menefreghista, chissà quante delusioni aveva avuto nella vita, era arrivato proprio alla nausea. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli chiedeva fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, mettiamoci tutte le parole colorite che ci vengono in mente, le mettiamo dentro di noi, basta. Le farò giustizia perché non venga continuamente ad importurarmi, proprio per togliersela dai piedi. E Gesù aggiunge, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio, e Dio, non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà forse attendere a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente e poi conclude amaramente. Ma il figlio dell'uomo quando verrà, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vive e i morti, ecco diciamo nel credo, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra, troverà a giangarlo, troverà a te che lo accogliamo, Signore, abbia misericordia di me, abbia misericordia di noi e salvaci, perdonaci. Ecco, allora voglio concludere oggi con questa mia composizione in dialetto, perché io faccio fatica a parlare in italiano, penso che ve ne siete accorti, in dialetto mi esprimo meglio, questa mi piace assai, perché c'ha una parte bella, ma poi una parte che ci invita alla preghiera, a pregare, amici miei, che è tutto il tempo perso quando noi preghiamo continuamente Dio che ci faccia sentire la Sua presenza. Già su munno, tunno, tunno, quante cose che ci sono, cose grandi e cose piccole, tutte belle, tutte buone, c'è lo gelo, c'è lo sole, c'è la luna e tante stelle, c'è su campi, prati e fiori, tanti alberi e foreste, i farfalle e le formiche, tanta gielli sempre in festa, c'è lo lupo e c'è l'agnello e c'è puro o giucciariello, c'è lo cane e c'è lo gatto e c'è puro a cuccubella, campi e grano per lo pane, forza della compagnia, vigne, belle, pello vino, chi ne l'inghia d'allegrimo al tempo del vino, eh? Fra poco arriveremo a novembre, assegheremo il nuovo, ma chi fossi, chi su munno senza idea, signore mio, che si nato un già una stalla e ha chiamciuto come mia, si è cresciuto un già una casa tutta china e meraviglia, con un vero padre, attendo, è una mamma come figlia, sempre attendo a tutte le cose, ha fatica un tappuzzato, vero amico e tutta la gente, con l'universalità di cui parlava il Papa, vero amico e tutta la gente, con il cuore hai lavorato, agli poveri, agli ricchi, agli sani, agli malati, agli buoni e agli maligni, confidenza hai sempre dato, tu sei fatto mente in croce, per ne cancellare il peccato, per ne fare, ritornare come Tia, figli del Dio. Ecco, noi cristiani abbiamo la possibilità di ritornare come lui, come il Cristo, per mezzo di lui siamo stati creati, però amici miei, anche già sul mondo tanta gente non te conosce, tanta gente non se ne manca accorta e l'invidia sempre cresce, chi ne è tanto e chi ne è niente, chi ne è bello e chi ne è brutto, chi ne vince, chi ne perde, concorrenza dappertutto. C'è un sacco e confusione, dentro a capo è tanta gente, c'è paura e delusione dentro il cuore e troppa gente, essi figli, c'è gli nostri, i giovani, sono confusi più di tutti e non riescono a capire quante giorni e quante notte, su delle luce e nuove, più grandi, diciamo bla bla bla, parole e parole, ma non facciamo, a parte mamma, padre, professore, prive, scienziato, tutti qua diciamo ma non facciamo, perché? Perché non gridiamo a Dio, non gridiamo a niente e tanto male ne facciamo. Io mi rivolgo alla Madonna, oi Madonna, vera mamma, tu chi chiangi per i figli, solo tu ne puoi aiutare, danni tu forze e consigli, solo tu ne puoi imparare, vera mamma, vera figlia, a fare i padri, a fare i mamma, a fare i priet, a fare i professori, a fare i miei, a fare l'inverniera, a fare tutto, commercialisti, politici, che vengono scappare risa, amici figli, solo tu ne puoi imparare, vera mamma, a fare i padri, a fare mamma, ad accompagnarsi i figli, con quell'occhio grande, con quell'occhio grande, con quell'occhio, senza, con le paglia, guardate a quell'occhio figlio, sempre tiene meraviglia. Don Anili, pure a noi, su occhi belle e su occhi dolci, per guardare a questo mondo, senza ne spagnare la croce. Don Anili, pure a noi, su occhi belle e su occhi dolci, per aiutare i guaglioni a sembrare, a portare la croce. Ecco, carissimi amici, una santa, buona, bella domenica, arrivederci alla prossima, sempre a Dio piacendo e cerchiamo di pregare il più possibile, non dire le preghiere, pregare con il cuore perché Dio ci ascolta. Buona domenica, ciao ciao! Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su tua stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua. Camminiamo sopra la stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza far domanda, e tutte cose che ne siamo chiedi, quando morimo ne portiamo niente. Avemo sempre la puzza su tuo naso, facciamo il gara a chi ne non ci spiega tu, e ne facciamo tanti ganni susi, ma siamo solo giù c'è presunto così. Grazie a tutti.